Ciao 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 da Svideo! Allora vi ricordo che stasera alle 21.30 sarò in live sul canale di Checco379 dovreste essere già iscritti dal mio amico Checco, comunque da Checco379 ci sarà questa live parlata che si chiama K-Space come stiamo facendo tutti i lunedì, quindi ci sarà Checco, io e ci sarà Lucino Han della Compagnia dei Nabbi e durante le live di stasera poi ci sarà questo quiz che ci farà delle domande sui videogiochi Checco, un po' a me, un po' a Lucino, dove dovremmo rispondere ci sarà il Che Quiz e quindi sarà anche molto divertente e simpatico, cercate di provare a indovinare anche voi nella chat, vi aspettiamo, poi la parte grafica vedete come è sempre curata molto bene dalla bravissima Rebecca e quindi insomma, niente, passate alle 21.30 sul canale di Checco379, attenzione non sul mio canale ma sul canale di Checco379, live parlata, K-Space come tutti, quasi tutti i lunedì stiamo facendo Ciao a tutti del video!